Wait, Swag host and scrims right off to the World Series today? Oh, did I ask? Interesting No, Fra, la sedia è importantissima Per me la sedia è importante Cioè, se non mi nervosi... Ma guardi, ti ricordi pure ad Amsterdam Che non riusciva a stare sulla sedia? Ho dovuto cambiare, non riesco Quindi voglio mettere tutti la stessa skin? Mettiamo quella... Sì, 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 raga Mettiamo tutti la stessa skin Mettiamo quella di Beatrice Che ha la... Quella di tutti i livelli tutti al 20, tipo Questa qui, Marco, dovresti vedere, penso Tutta quella skin... Anche una bella tagliosa Nel senso, una ver... Sul verdogno Oh, frate mo, grazie per la condivisione, a mo Per me no, Cono Per me no Non lo espelli, per una cagata del genere in un derby Ehm... Allora, stai ancora rosicando, Trucce Calma, eh, Trucce, Cono Cosa? Dai, la Trucce C'è ancora... Condividi la storia che ti ho taggato, per favore Ma è quella che c'è di print Ah, non c'è giorno, allora Devi spingere più volte l'operatore, vai di nuovo Ma io la vedo aggiornata io Ah, sì? Ma come si chiama, come si chiama? È quella di Vanguard, Beatrice Eh, è la schifo, come si chiama? Si chiama Grand... Ma è tra... Oh, frate mo, grazie per la condivisione Speriamo vada bene Speriamo vada bene Speriamo vada bene Bella Mattia Ciao Nicolo, ti ho condiviso comunque, ti ho condiviso Ciao Lori, ciao a tutti, regà Allora No, no Rispetto all'anno scorso Un bel presentimento L'anno scorso ero molto più fiducioso Quest'anno li ho visti giocare troppo poco insieme Secondo me Quindi Ah, c'è pure il socio di Persian Mi raccontò per cazzo Tipo un paio di misure Un esempio fa Che se c'è un singolo Ebbene Distrutto una volta E poi l'ho ucciso lui A questo ragazzo Che gli strati Che c'è amicizia Dice no Tipo CDKD Fortissimo Eccetera E adesso sta facendo le war series Vediamo Andy Vai uomo Dai con ste stelle Stanno facendo la finale delle war series Ragazzi 300.000 in palio E siccome l'anno scorso Abbiamo commentato E hanno vinto I nostri ragazzi Sabi eccetera Hai fatto Voglio portargli infortune E guardarli anche a sto giro Li guardiamo anche a sto giro Dobbiamo iniziare a cercare la partita Voglio iniziare? Sì 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 Faccio gli ultimi 10 box 9 8 Grazie mille AIM per i due minuti di abbonamento E grazie ancora Bixardo per i 5.000 beats Grazie Andy Forza AIM grazie mille Grazie a Ruma Ora ragazzi Scusatemi Non leggerò la chat Sarò full Full focus Perciò ragazzi Ovviamente capitemi Non cercherò di non leggere la chat Il meno possibile Forse vorrei dovrei spegnerla Vorrei spegnerla Grazie a tutti per l'esatto Grazie a Scozza Saranno 5 Una di Gerabaio Tutti e 5 vengono così in considerazione Una kill vale un punto Il posizionamento Si gode? Moltiplicatore 1.5 per la top 15 E 2 per per la vittoria Oggi Nico Potremmo andare a festa Se vinciamo vengo da te subito Ok? Vai 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 Vediamo se posso scrivere Giuro su Dio eh Col primo ordino Venite tutti e due a Bari A fare la gambe a Rozzalens Qualcuno mi inviti? Bella Feuro Non legge Non legge Let's go man Ciao pata Stiamo iniziando adesso Perché faceva cagare Drago parliamoci chiaramente Non andava a niente Dell'app Facebook Gaming Anche perché giustamente Avevano altri cazzi A cui A cui Altri cazzi da guardare Adesso hanno fatto Integrano tutto con Facebook E penso sia nettamente Nettamente meglio così Comunque come spiegava Savi Sono 5 partite Giacomo grazie per accendo Non mi ricordo se torno ringraziato comunque Sono 5 partite La Ogni partita conta ovviamente Un punto kill top 15 Moltiplicato Uno e mezzo E Primo Per due Però non ho capito Perché dovrebbe essere in pubblica Ma dovrebbero essere Vai uomo Dai con 6 stelle Ok Magari non deve Vedere il ping Si dice che sono 36 Su 120 Avete fatto la classe con Ghost Li hanno fatto come l'anno scorso Praticamente Li hanno whitelistati E le sa grazie per i 50 Li hanno whitelistati Praticamente Per questo Sono uno dei pochi streamer Che non ha malizia Ti fa veramente Per Savi e gli altri Non lo dici per comodo No Ma a me non me ne frega un cazzo Rega Presso l'abbiate anche capito Che di leccare il culo Fondamentalmente Non me ne frega Assolutamente Un cazzo Sono qua Più per Appunto per Per augurare il meglio Quelli che sono Tanti miei amici E soprattutto colleghi Quindi Vediamo Vediamo un po' come andrà Sono whitelistati Praticamente Loro Startano Come se fosse una lobby normale Ma si ritrovano tutti insieme Esatto Non ci hanno invitato Solo perché Se no Renai Ci va dentro un casino Rega Come la vedi Buone possibilità Eeeh Non lo so Non lo so rega Non lo so Matte Grazie per le 50 Mi faccio partire Lu Parti Dai che c'è il party Le fanno whitelist Sono in whitelist Rega No 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 Sono 150 Loro Ha una voce bellissima C'è un mal di gola Vai uomo Dai con ste stelle Dai raga che c'è il party Proviamoci Oggi abbiamo fatto due party E le abbiamo completate Di tutte e due Stasera non ci sono Rega Vediamo Vediamo gli altri Come stanno messi Moon Oh porco de magna 50 team che puntano I 200k Si E poi c'è La finale Come l'anno scorso In singolo Banda Grazie per le 50 No Qua si prendono gli schiaffi Giovanni Qua non si sta parlando Di team Qua si prendono gli schiaffi Rega Vai uomo Dai con ste stelle Bella Grillo Dai raga Con sto party Un caso Non credo Grazie per le 90 Fatta Dai chat Ci vuole una bella spinta Se no non lo completiamo Sto party Munna Munna Partecipa per sport Perché Munna E' più Un creator Sul Sul divertimento Fra virgolette Vai uomo Dai con ste stelle Ecco Paralize E Barry Gabriele Con le 500 Ci ha dato una bella spinta Dai chat Dai chat Dai chat Per il vostro Caressa di Warzone Per il caressa Di Warzone Andiamo con questo party E andiamo a supportare L'Italia All'interno Di questo torneo Europeo Perché è stato fatto poi anche In America Non so chi abbia vinto Che Però è una cosa Fuori di testa Vediamo 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 Però io voglio Marco Adesso Andiamo a vedere un po' Marco Andiamo a vedere un po' Marco Non lo so Fabio Voglio rivederlo All party Ma dici che dovrei mettere Oh ma perché a volte mi diventa Il quadratino rosso Su OBS Ti fa cagare sotto Mamma Immagina se crash Immagina se crasho io Sono 36 No ma Kyborg e gli altri Regà sono a Milano A farlo adesso Kyborg e gli altri Sono a Milano Qua sono a Milano Sono Zanx Skyborg e Andy Vedete che sono insieme Gabri con le 560 Dai 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 Chiat Ma Munna Munna Allora Munna ragazzi Parliamoci chiaramente Munna Arrateo Al mio stesso livello Ok Arrateo Arrateo Del mio stesso livello Arrateo del mio stesso livello E come me Lui non punta Tanto al gioco Punta molto più Sull'intrattenimento Poi ovviamente Per i numeri che hai È giusto che venga invitato All'interno di questi tornei Però ragazzi Lui è uno che tu lo guardi Per farti due risate Sta in compagnia e tutto Non lo guardi di sicuro Perché tra yard Ok Perché non è il suo Regà Chi c'è al bar Di bello Di bello al bar Di bello al bar Vedi che sono 84 su 120 Piano piano entreranno tutti Che si vince Ma ad uno c'è di cocco Sono cinque partite Tutte fra di loro E sono 200 mila euro Pacchetto di sigarette Più o meno vingono Sono tutti nella stessa lobby Sì Sono stati whitelistati Il che vuol dire che Riavviando il gioco Praticamente Startano la partita E si ritrovano Tutti all'interno Della stessa lobby Praticamente Cioè guarda come sparano 200k 200k seriamente Sì E poi fanno Un singolo secco A meno l'anno scorso Era così Un singolo secco Con 100.000 In palio Per il primo Quello dove Jesus è arrivato Secondo Allora canna La 230 La seconda Eeeh Coso Andy Kyborg Zanks Bello questo Poi Eeeh Eeeh 71 2 più 8 Millimetri Però Ce ne sono due 8 millimetri No Poi Pugnetura Punta cava Resina vegetale Punta cava Resina vegetale Aizen C'è un sacco di gente Che conosco E' una follia Questo ti fa vedere La quantità di soldi Che sposta questo gioco Eeeh Sì puoi un po' Monna sta giocando Con Barry E Maze Paralys Flex Mamma mia Che gente Che c'è Che gente C'è Jesus Anche Ma sono tanti Quelli forti C'è pure Rec No Il rec Non c'è Come mai Non c'è Rec Va bene 19 De ping E' nel server Praticamente Eeeh No Grillo Mi ha detto che Mi invitano Al successivo Tu guarda Ti faccio sapere Per il prossimo Mi hanno detto Che mi fanno Direttamente L'invito Non devo neanche Classificarvi Sì pata Comunque Sono in grado Di waitlistare Ma il gioco Fa cagare Esatta merda Savio su Twitch Però stai qua Che ti faccio vedere Tutti Io te li faccio vedere Tutti Cioè non è per stare Da me Ti faccio vedere Tutti gli italiani Li seguo tutti E poi te faccio Una telegrama Noi che beh Che è il futuro Secondo me Devo fare Le picche Mentre fightano Sì Deve fare le picche Tipo non ti spottano Sì esatto Esatto Tre persone mancano E basta Meglio se lascio perdere Ma vuole tanto Se ti sparano Beh in pubblica Le ho vinti furi frontali In pubblica Però No non ci hanno fatto Io Cioè a fare Le qualifiche Passavano Veramente 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 Le persone Forti 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 C'erano già Dei team Invitati Ma sono state Fatte un sacco Di fuffe Nelle qualifiche Pubbliche Infatti Un sacco Di gente Si è lamentata Cioè c'è stato Uno che poi Vabbè è stato Giustamente Gacciato Che ha fatto Entrare Un altro team Con lui Nella pubblica E ha fatto Si è fatto Sto team qua Si è fatto Ammazza 75 volte Raga Lui ha avuto 75 kill Gisus italiano Raga Fidatevi Non possiamo Stare in aria Risega tutti Ha detto Chi risega tutti No no Ma io l'ho già detto Raga Stasera Non ci sono La privata Degli abbonati Di stasera È spostata Giovedì Sera Ok Io 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 Mi guardo Il Milan Raga C'è la Champions Cioè la Coppa Dalle grandi orecchie Dobbiamo portarla A Milano Dobbiamo portarla Ovviamente Ovviamente Nella parte Quella di Milano Quella giusta Dove non ci stanno Le persone malate Perché lui La cosa infatti Che non mi piace a me Di Jesus È che gioca Con due inglesi Lui Però Lui è italiano Cioè nel senso Adesso Non so se sia Di origine italiana Però Lui è italiano Uno streamer italiano E non gioca Con gli altri italiani Questa è l'unica cosa Che mi dà fastidio Di Jesus L'unica Però Bella persona E bel player Voglio fare un po' Di just chatting Salamandra titolare Oh mio Dio Bella vince Jesus E mica quello Che è l'ultimo Torno di Verdans Che era col camion In opening È arrivato secondo È arrivato secondo A quello Da 100.000 No Non so Di cosa Stai parlando Di quello Dove c'erano Tutti quelli Di grau Anche Non può essere game di prova Non vi faranno mai Fare un game di prova L'anno scorso L'ha vinto Però secondo me Quest'anno Soprattutto su questa mappa Qua Perché Savi Era veramente Fotonico Era fotonico Su Verdansk Sapeva memoria Sapeva qualsiasi cosa Qua È diverso E qua Attenzione È anche molto più casuale La mappa Rispetto a Verdansk Perché Qua ti basta Uno scollino Te bastano Un buschetto Un cespuglio E te si inculano Ma chi manca? Io come il GSH Scamberò sempre la media Cioè questo qua Come cazzo la freccata Ma ci hanno tutti Per sacca Infatti che non sono Fai skillati Con il GSH Fatale L'anno scorso Era uguale 200.000 Per il team Ma è 100.000 Per il singolo Sì l'anno scorso Aveva vinto Savi Oh Non sto facendo torneo Sto aspettando Ciao Antonino Non c'era nessuno Che sava il Gorenko Ma se qua domani Tutti lo useranno Perché Dove daranno Da qua Dall'Europa Perché hanno fatto E' arrivato secondo Sai che sono molto dubbioso Secondo è arrivato in singolo Jisus Mi ricordo Ma comunque mi sa che È il team di Kams Che non riesce ad entrare Fra Ah vero? C'è Non fa me un favore Che non entro Non c'è Bella la maglia di Le cose Bella Di Cristo La per Cristo All'altra Ma che il team Ma che Prende Ma che è un'altra Ma che è un'altra Lei sa cosa fare per farmi contento Quando fa l'abbonamento Pagamento Lei sa cosa fare per farmi contento Vabbè 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 Lasciamo perdere Jennifer con la sub Tre mesi Comunque Le qualifiche in pubblica O eri veramente forte E passavi O Ci sono stati un sacco di sotterfugi Da parte di gente Guarda questi come sparano Ci sono stati Manca un team Ci sono stati un sacco di sotterfugi Un sacco di trucchetti Cioè non puoi farle Qualifiche in pubblico Per chi tifo Io per tutti gli italiani Non ho preferenze Personalmente Vabbè Un occhio di riguardo Ce l'ho per Per Savi Io personalmente No no Fermo Fermo Compatta vera Oh barber Carver Carver Se volete Nell'angolo Shadow Bunch Apposto OXA Allora vediamo Dove scendono Qua possiamo andare Pure con l'aereo Sì 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 Madonna Ragazzi parte Già Sì Fussi Le surre Stam facendo un torneo Vince Sto facendo il caressa Io sto commentando Torneo da 200.000 dollari vediamo airfield puntano allo sciacallo saranno tre non possono essere no non sto giocando vince vediamo già che ha trovato la sua arma a regola può andare già per prendere fantasma o robe simili buona come roba la cassa con le armi ok anche loro non hanno beccato nessuno volete che arrivo con l'aereo l'aereo non so se vale l'aereo vale 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 l'aereo vale lo finisco lo sciacallo no si 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 allora entro la top 15 moltiplicatore 1 e mezzo quindi se fanno 10 kill hanno il moltiplicatore 1 e mezzo per la posizione si arrivano prima hanno il moltiplicatore 2 per le kill che hanno fatto vince grazie per i 5 abbonamenti si è un mico volete che faccio il punto interrogativo o no non morire Marco non morire è da solo che ogni volta c'è qualcosa prossimo allerta bello spedito eh marcone nazionale qua è un altro sciacallo raga lo faccio se la sta sviaggiando da solo così buono la velocità guardate lo fa in due secondi almeno dai 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 aspettate a fare il load out io arrivo tra poco no non puoi andare là vabbè vado a terra o arrivo con l'eli o con l'aereo? non lo so poi c'è un coso nico si vuoi prendere vai con l'eli io ti spotto con l'aereo eh tra poco ci sono quelli diversi sono quelli delle tende 100% delle tende lo tiro dai per sicurezza lo tiro fatti il kit anche ok buttatelo buttatelo buttalo 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 vabbè secondo me eh oh anche io ghost madò pensavo fosse crashato Savi mi è venuto un infarto per lui vedete che infatti è riuscito già a prendere ghost trovando il coso in terra eh trovare trovare subito le armi nella cassa è oro ragazzi perché ti fai subito il load out con fantasma eh eh quadrato che da solo ci sei tu roni vanno a quadrato buscino quello lì che da solo però canto c'è una marea di gente vediamo dai ve lo scopate buono buono barry è il team di è il team di moon quest anche con quello sciacallo poi possiamo fare un altro tira luoghi tira luoghi dovevate tirare luoghi prima di crossare rega che se ve li trovate davanti lo prendete nel culo male sono tre in una casa vedi che hanno già tutti i costa rega buono buono push 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 di cattiveria buono guardo niente vado a finire lo sciacallo è che io a tenere volume un po troppo alto poi mi confondo rega saranno arrivati bello però già fatto un po di chile guarda direi che non è così facile fare così c'è se un team fa 20 25 kill è un team intero c'è so tantissime dai è tuo sabi è tuo dai minta mi sa che non si toglie lo sciacallo però vero vado vabbè vabbè tranquillo buono 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 chiudete lo sciacallo bella giova ok sono già arrivati al punto di restarsi fra di loro sono mega in difficoltà muon gli altri vediamo sabi che stavano andando al push mi raccomando ragazzi mettiamo mi piace fatemi un bello spam di live alla like dai spingiamola sta live spingiamola ok chiudono sto sciacallo altri 5700 a testa stanno fottutamente pieni di soldi il problema di questo torno a guai che devono puntare sempre a buttare il triplo perché ti pinga anche quelli con con fantasma rega devono puntare sempre a fare il triplo quindi devono spendere guarda che sto prendo la mappa con select io per vederle robe togli mi sto cazzo di pad porci di merda grazie per la condivisione a mo eh sì sì è vero ho visto massimo due anche pallone pallone sopra la montagna andate subito se ce lo fate subito è buono lo spam di live alla like oh live alla like è lo sticker eh lo prendi tu donico? eh sì sì lo prendi eh c'è tutto quanto qua c'è tutto quanto ok io voglio prendere il camion che dite? hanno aperto il bunker ma non è che mi faccia impazzì come roba che porco due te salgono dappertutto poi avete trofi per caso trofi grazie per la condivisione vince grazie per la condivisione grazie per la condivisione dai va la like di che il martino io lo sai martina che ti romperò il cazzo fino a quando non rifare la sub perché io vederò una patta fiocca senza la sub mi viene male eh dovete saltar fuori immediatamente da sto buco raga anzi controllate tutti dove ci sono le stelle accanto c'è lo scudo verde sono stati regalati una marea di abbonamenti in sti giorni eh magari ce l'avete lì da accettare eh controllate ragazzi me l'ho detto io rega non è improntato su fare questi tornei qua perché ripeto il ratio ce l'ha come il mio io so consapevole che se entro qua piglio gli schiaffi eh però cazzo fa content fa divertire la gente cioè io preferisco mille volte uno streamer così che uno streamer che se ne sta zitto gioco e basta l'abbonamento pagamento lei sa cosa fare per farmi contento quando la rabbia un aumento Paolo Vittoria Antonio tre stronzi siete che avevate lì l'abbonamento il regalo Regaliamento lei sa cosa fare per farmi contento quando fa l'abbonamento Regaliamento speciale ragazze per le condivisioni quando fa l'abbonamento pagamento oばい scienza cosa farebbe farmi contento quando fa l'abbonamento Koufratten, grazie per la convivisione, amo! lei sa cosa farebbe farmi contento, guarda quanti! Pagamento lei sa cosa farebbi fammi Quando fa l'abbonamento le sa cosa fare be farmi contento quando fa l'abbonamento Pagamento lei sa cosa farebbe ver извinto Porco due potevi schiacciarli questi prende l'high ground prende l'high ground buono con la Gorenko qua si diverte Savi no Savi stai missando troppo però eh buono fanatic GG buono regà hanno già una marea di kill poi devono andare a prenderle safe Emanuele Giulio no Giovanni Emanuele tutto bene Luca lei come sta? Fabio bisogna tornare abbonati qua Jimbo Jimbo giusto ti chiami in game Jimbo Lambo no? dico ragate? praticamente una kill un punto top 15 hanno il moltiplicatore uno e mezzo delle kill primo posto moltiplicatore due delle kill quindi importante è killare scendete se volete e una volta che hanno fatto tipo le kill che hanno fatto ora beccare la top cioè andare almeno in top 15 hanno fatto già tante kill ragazzi sia per essere start del game ma se la stanno giostrando bene fammi vedere sta mappa che so curioso porco 2 eh brutta eh io andrei a cattare quelli di pick dai 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 sono vostri questi scendi e spara scendi e spara come han fatto a farsi fare come han fatto cazzo qua doveva scendere e sparare Savi però quello lì era scendeva faceva quello sdraiato one shot e poi si faceva cioè gli altri due erano tutti one shotati da Blade e Vortex le sa cosa fare per farmi contento quando fa l'abbonamento a pagamento le sa cosa fare per farmi contento quando fa l'abbonamento a pagamento quicker non so chi sia cazzo eh l'ha inculato l'ha inculato l'ha inculato mi sono riabbonato solo perché ti ricordavi di Jimbo ormai le vecore nere non te le scordi mai vedi vedi io meglio ragazzi la maggior parte di voi i nomi me le ricordo che è Jimbo Lambo ci sei da una vita zi da una vita se voi ci avete fatto caso anche quando hanno pusciato quelli in casa c'era Vortex davanti all'edificio e gli fa non preoccuparti la destra te la guardo io cioè queste sulle giocate regà queste sulle giocate toste vuole andare a restare Vortexone è ferito lui ok per essere è dentro quel bunker fermo è ferito ancora manche a me mi cichinano nave da nave da nave mi cichinano da nave Marco mi sa che mi fanno questi coprilo coprilo provo darti una mano aspetta aspetta eh sì sono buono qua la nave non c'era nulla stabilito questi sulla nave è stata da Marco Rani è stata da Marco vado vado provo a venire Marco eh ma per quello mi ricordavo Jimbo infatti ogni volta ce l'ho il tiolino anche nel reggimento è tutto vada Mario dai uomo dai che ci stanno siete ancora tutti e tre in vita porco due ma passano i colpi eh ma non buttarlo via così l'autoresp però porco due una prezzo è ballon due ballon qua 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 qui il piere qui il piere lo lasciati lo lasciati cazzo Savi mi fai degli shot clamorosi oh l'ha atterrato bello bello sto shot Savi vedi dovevo insultarti porco due dovevo insultarti bello papulear fortissimo anche lui fortissimo tutti fortissimi sta cazzo di lobby qua dovevano prendersi una sacca una cassa dovevano tenersi bella Mario bombarda mi ha tirato bombarda ok ok va bene no il gorenco più che altro la cosa che a me mi fa in cazzo del gorenco rega è che te fa l'headshot da distanze clamorose e te mette giù e in più al caricatore che tum 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 cioè perché un caro uno Swiss e non lo devono fare questa è la mia domanda lascia perdere che è un coso anticarro e tutto è giusto che lo faccia comunque perché non puoi fare un'arma così OP in un gioco però la domanda fondamentalmente è quella occhio piccare così però che rischi di prendere l'headshot dai compagni magari vaffanculo check it out maria grazie per la condivisione dove sono le tue 50 sub adesso che siamo tanti che le accettano guarda dove chiude regà guardate dove chiude metà in mare si andiamo da questi due che fightano qua si andiamo da questi due che fightano qua si si sento cosa si si esterni esterni si sta io non ho smg qua madonna li stanno pushando grazie per la condivisione a mo audio bravo bravo io c'ho il coso per rimanere fuori safe se volete da sinistra non ci sono quelli c'è mix vai 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 possiamo andare a prendere forse parigi vapperanno tutti bravo no 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 c'è là un bottiglio botbolone c'è una una bravo dobbiamo andare a comprare lo shop ah no lo shop non c'è più sono inculati si sono massi troppo lenti doveva muoversi prima top 15 l'han fatta 10 kill peccato cazzo l'unico l'unica cosa che abbiamo sbagliato è all'inizio raga c'è birna ciao ah sono jesus questi jesus sono ancora dentro questi sono troppo forti raga questi sono veramente troppo forti vedi però che loro sono già in safe qua si fanno una marea di kill adesso si prendono una marea di kill questi adesso bravo ok puoi fare il rez con la maschera bravo mamma mia jesus raga mamma mia guardalo com'è dentro tutto focussato porco due mamma mia quanto è forte quanto è forte sto uomo mamma mia mamma mia raga mamma mia mamma mia sono fottuti però anche loro giocati la bomboletta che magari si sposta la safe giocati la bomboletta che magari si sposta la safe a tuo favore peccato 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 Piero Cod chi è Piero Cod chi è Piero Cod che cazzo è Piero Cod non ho mai sedito in nessun torneo sono tedeschi questi mi dissocio cancella il commento Marco che possono bannarti facebook eh non noi stai usando PPSH e le MGKV usano tutti questi hanno vinto raga si va a suicidare per non dargli la kill 14 17 kill 17 kill sono tante sono tante 17 kill raga si è l'MGKV lo chiamo io l'MG42 lì come cazzo si chiama porco 2 che cazzo è Piero Cod pace tg7 commercial break in progress ehi cazzo dici figa 200 spettatori anche l'altro 300 spettatori lei sa cosa fare per farmi contento madonna questo lì è proprio un bimbo tedesco mamma mia puzia ancora di latte fratmo quando fa l'abbonamento guarda questo è proprio un classico un classico tedeschello questo proprio classico questo questo qua questo ragazzi proprio me puzza al 100% de sandalo cor calzino ditemi se non è vero non vi sa al 100% de sandalo cor calzino dai ragazzi è scritto questo sotto c'è i sandali col calzino non ha le ciabane sono sicuro questo sotto sta con sandalo e calzino ve lo giuro sicuro al 100% bella chat i wanna see your feet oh scè ma mi devi leggere i wanna see your feet figa oh per me vedere un po sto piede chi è che c'è dentro ok pentagon quello che è stato bannato eh non è live adesso quello che ha fatto l'inculata nelle qualifiche che è stato bannato vapuler è lui oh no non è vapuler sto dicendo una cagata ma scusami non ci sono italiani qua overall standings competition format ok un po' in te ok chi cazzo è questo scusami come si chiama sta pagina vso v barry tp chi cazzo è tp 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 scusa dove la stanno vedendo sta pagina qua call of beauty regola ma scusami fammi cercare un po' sto vaporeon qua vapuler come vedete sto vaporeon qua 97 spettatori non c'è la cam vaporeon non me la racconti giusta scema vediamo un po' devo rimettere torna nella ci sarà sempre qualcuno che cerca di imbrogliare quello può essere andate a vedere su stream dopo che ci fece in due minuti fece 12 kg in endgame su caldera eh puttana ah questo posso dire che l'ho beccato su rebirth e l'ho ammazzato lui mi ha ucciso altre 15 volte ma io una volta l'ho ammazzato signori eh una volta l'ho ammazzato eh adesso sto provando un po' a usarlo su prazil gorenco e porco due è bello è bello bello arrogante è il gorenco ragazzi bello arrogante il gorenco facciamo qua compriamo i bonus compriamo i bonus ah si sta preso davvero il bonus oh c'è total win 48000 cademania 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 60 oh gol per 15 oh ah ha vinto 61.000 euro tranquilli ragazzi non li vedo in un anno io c'è problema wow wow stavo già mi sembro il padrino eh ragazzi ci vorrà un po' prima che passi allora no 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 devo mettere il seguito a call of duty cazzo ma avete l'aggiornamento della classifica oh che coglione ha nintendo switch porco demonio aspetta di guardare lo conosci e tu marian furbetto furbetto sì ma ragazzi ma questo qua è uno che viene pagato per farlo cioè loro gli dicono ti do cazzo ne so 5 milioni 10 milioni al mese e tu li giochi solo unicamente sulla nostra piattaforma cioè c'ha bilancio un milione e tre non vedi che compra compra solo bonus lui praticamente e gioca su due macchinette in contemporanea questo è un animale questo è un animale di quelli veri ha due schermi lui praticamente ti guarda uno l'altro uno l'altro uno l'altro uno l'altro basta non ho capito come funziona perché non gli escono i moltiplicatori ah perché questo mi sa che era l'ultimo tiro c'è 193 mila spende per i free spin raga mi rendete conto 193 mila se andiamo a vedere Adila se sono partiti fatemi vedere giusto questo tiro qua ah quando vince gli esce sotto il moltiplicatore madonna c'è un u per 15 ah deve partire sta cosa qua per uno astronave astronavami tutto per 5 quindi non capisco che cazzo sta chiamando perché dio mi vuole povero per 2 che schifo per 4 per 2 scammatissima 56 mila one more andiamo a vedere se sono partiti ok sono ancora in pre lobby vediamo sto bonus eh stiamo aspettando che partano raga che cazzo devo fare poi io a volte me lo metto su me lo guardo mentre sono a letto perché vedere tutte le cose che cadono si muovono così ma mi rilassa raga non so voi sinceramente ma lo metto lì alla tele me lo guardo grazie a dio non ho questo vizio però mi rilassa guardarli mega non vince un cazzo anche qua come si sono messi vediamo le classifiche oh porco 2 dove sono sesti sono per ora ah no non è lo score qua non hanno ancora messo lo score aggiornato non mi metto ma sì ma non dovete guardare quello perché vengono pagati per usare il sito e tutti i soldi che giocano sono soldi che gli vengono dati ah vabbè check it out se guardi noi per fare 1000 euro facciamo 10 ore al giorno per quanti giorni parliamone io prendevo 1200 facevo quasi 8 ore al giorno e me facevo un buccio del culo così parliamone adesso vabbè attacco la live dopo un 25 minuti più o meno 1000 euro li ho fatti siamo lì se ti stacca comunque è il buono senti già hai visto? sì eh io non l'ho messa proprio per ieri di tassi non me l'ho messa eh non la puoi mettere dopo o di me dico bene tra l'altro la faccio prendere la tassa la prendere la tassa ti stai imprendendo una tassa con un po' di musica oh è vero è vero anche in pubblica cioè questa è pubblica sì in pubblica possiamo la prendere sempre a marco secondo me sì e se volete vi lascio vi lascio la misaglietta e prendo il check-in il KD della lobby è uguale a quello delle qualifiche americane 4 e 19 cioè avete capito il KD della lobby regà ma che è che non c'è la 4KD della lobby non ho visto KD della lobby 4 e 17 KD della lobby 4 e 17 io me lamento quando trovo le lobby 1 e 20 non ho capito comunque se l'avanzato è pagato a volte è pagato non so ho paura no sai cosa sai cosa fa non pinga quelli con fantasma fuori dal raggio d'azione quanto fai il mese Ren capito però si sono abbastanza da permettermi che tutta la mia famiglia e tutti i miei parenti non lavorino e vengano mantenuti da me eh già no non è vero guadagno abbastanza soldi da poter vivere da solo e e vivere 1000 euro in 25 minuti come le mi dissocio io per guadagnare 1000 euro basta che esco di casa 10 minuti ho la banca a 4 passi che cazzo no sto guardando il torneo su 5 partite ne hanno già fatta una a regola Savi eccetera dovrebbero essere nella top 10 adesso a regola no vabbè non sono cazzi vostri si però lo si dice in maniera un po' più gentile check it out e sappiamo che purtroppo è strano check it out live alla like spam subito guardatelo adesso guardate check it out adesso preparatevi io do 5 massimo 10 secondi e leggerete solo live alla like non esisterà più niente di voi all'interno della mia live su twitch eccolo siete scomparsi ragazzi c'è solo check it out adesso basta non esistete più c'è solo check it out adesso ho letto un succa di johnny uomo di merda ti ho letto no quando sei triste martina che scrivi live alla like free martina vado a farmi un drummino volante arrivo per me si poteva anche fare però siccome a questione di timing siamo stati giusti si va tirare nel bunker e poi non avevamo troppo tempo per andare forse a destra perché lo shop non c'era noi volevamo fare il tipo a b e c'era e c'era solo a sinistra ok check it out 302 questa fama la tua la tua amatura amico mio pure là il fight vedi a peak io mi sono preso live ground col camion là perché sennò ci potevano chiudere per bene oh frate mo grazie per la condivisione a mo ma infatti non ho capito perché ha pushato quello si è buttato come via si si ha cioccato ha cioccato si ha cioccato male però comunque mi prendevo live ground se non avesse pushato mi prendevo live ground e mi pinciavamo quindi qua c'era il timer c'era qualcosa eh c'è chi da out culo cosa chi e i denci le ha domani dimostrano che quando i chirurghi sono anche dei gamer ma perché reclente sta giocando al del ring oh ste parassitosi malattie strane tutte venere oh ma chi è user che c'è dentro quindi non ci scampia la pubblicità puoi aprire qualsiasi canale non ci scampia la pubblicità tranne da savi che mi hanno regalato l'abbonamento giukates te lo dico subito se non riesce ad entrare giukates si giukates non riesce ad entrare ho il controllo su tutto rega qua sono tipo il proprietario delle live basta che non leggo un cazzo quanti commenti siamo già arrivati disgraziati di merda che non siete altro siamo già 875 commenti eeeh scemi è la finale Luca grazie per la condivisione buongiorno buonasera perdonami mi cozzo ho letto vince se l'uomo di berda bastardo traditore o è scema intanto ti calmi giapi cini aspetta non ho letto un cazzo rischiamo subito Spilorch ti fai regalare gli abbonamenti no perché io di solito siccome io giustamente non li guardo loro cioè non ho proprio neanche il tempo di guardare il loro live allora regalo gli abbonamenti quando c'era tipo la quando stavo da quando stavo facendo la gambero challenge mi è capitato di aver regalato 5-10 abbonamenti e allora dico in sequenza come io regalo l'abbonamento ovviamente non m'abbono io lo regalo alla community perché almeno do la possibilità a chi guarda di non vederle pubblicità e tutto no non è che mi abbono io che poi non lo sfrutto neanche l'abbonamento quindi prendo e regalo 5 abbonamenti puntualmente perché la community di Sabi è un po' come Ranaia molto bella come community quando faccio regalo gli abbonamenti automaticamente c'è sempre qualcuno di loro che regala a me l'abbonamento vince con i 5 abbonamenti si umico vince si umico ha fatto i 10 minuti per andare in banca 10 metri lei sa cosa fare per farmi contento quando fa l'abbonamento pagamento lei sa cosa fare per farmi contento quando fa l'abbonamento quanti ne fate a Salisburgo non ci credo Martina ha ricevuto la Sabi incredibile Martina lei è una traditrice non la vogliamo è tutto in un giorno basta basta fermate un attimo lo spam fermate un attimo lo spam qua c'è da conversare c'è da conversazione conversazionare qua allora guardatemi il mio è un ordine porco due quando vi chiedo di spammare non fate un gazzo quando vi dico smettere di spammare continuate a spammare sto conversionazionando Johnny vaffanculo allora ragazzi ricambierò avete letto Martina inizio a silenziare allora guarda mi silenzio una casa mi silenzi Johnny perché mi infastidisce Johnny ma voi non si facevano piccare ma sono stupidi poi si sono messo una nave tanto questo mi hanno fatto un po' di guilt no non è la mia idea la mia idea era di andare giù la nave però poi ho detto il problema è che se non il problema buonasera guarda guarda non si fermano più zato zato va che ti leggo la prossima volta che leggo un tuo post rosicone nei confronti dei Milan porco due te banno bastardo forza Milan l'ho salutato anche prima comunque il fermate gli sticker fermate gli sticker raga dai allora stavo guardando una cosa ma volevo vedere oh ma siete andati a vedere il clipperone raga ho caricato il clipperone fa pisciare addosso da ridere silenziami mircozzo mircozzo mi dispiace silenziami si se lo merita mircozzo lo vedo che è lì sarà lì in mano con una canna che dirà sto spammando con una canna in mano uomo di merda silenziato guarda ci venga due secondi jimbo no jimbo non ti voglio silenziare per favore jimbo smettila pressa f che bella quella cosa lì nei fatti di più divertenti però ah no vabbè quello si però è bello quel clipperone mi è piaciuto forza milan forza milan allora ragazzi ci sono un po' di donazioni che si devono alzare perché ci sono dai diciassettesimo al venticinquesimo che sono solo 100 stelle quindi bisogna alzarsi con le donazioni delle stelle mentre con le sub è buono perché siamo già a 17 donatori diversi l'obiettivo è 25 ovviamente come tutte le settimane però già siamo a 17 quindi buono però nel senso se volete arrivare già adesso a 25 non mi faccio problemi considerate che Vince non stava dentro nei donatori ma è terzo o 10 sub si un mico qua sicuro ce lo vengono a prendere le lì forse soprattutto chi riceve l'abbonamento in regalo ragazzi in regalarlo di conseguenza eh mi raccomando col cazzo Giovanni uomo di merda madonna guarda te faccio i tendini la prima volta che ti vedo eh io adesso io guardo principalmente Savio e poi mi sposto ho bestemmiato Ren no Nicolo ma dopo il Milan vai live giusto per capire quando lavarmi ci piace anche puzzona porzia ogni riferimento è puramente casuale parti non stavo parlando con te io giorni cioè giorni da silenziato ha regalato un abbonamento che marcio di merda che sei con tutti gli organi che vendi allora vediamo si parte sono fermi sono fermi gli sticker vince tranquillo sono fermi si sono fermati non ti vengono più le convulsioni oh poveriggio il è Ina Lee Ina Lee salutami gli altri due disgraziati ehi cavalca la vecchia dove sono scesi perché questo posto disgraziato qua guarda mi sto grattando si ok giorni si è sorpreso buono così cos'è sta roba pensavo ad avere ancora il canale di Twitch e me lo bisogna cercare la cassa per le armi devo farla prendere la marcia la cassa per le armi se la tolgo si 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 sta gulag gettone gulag arriva arriva c'è il gettone gulag c'è il gettone guag via mi piace una white blu qua c'è si padrone ve li aumento subito bombardiere si si arriva arriva e poi ci siamo all'angarone ok loro sono abbastanza tranquilli qua vediamo ma perché è sempre blu porco demonio quando lo apro e ciao ci obbligo ancora un po qua ma stanno fightando con savi mi sa eh si era savi ma perché c'è porco cosa chi si io oggi sono andato a chiederne uno in banca posso mandarti 307 euro di enel sono una passeggiata te faccio vedere quelli che prendo io con tutte stagazzo di luci pc eccetera anche perché io non ho gas qua regalo sull'elettricità vediamo come se lo vogliono giustare hanno solo una kill per ora i ragazzi posso scrivergli è moorride quello alle casette è moorride frattamo madonna non l'avevo mai visto sto coso qua porco due è mastodontico è mastodontico sto coso ok qua uno sgrappolalo sopra il bunker non c'è niente no no renato vuoi fare silenzio sto bene scusatemi scusatemi non parlo non parlo più dov'era dov'era a faro mio magazzino 2800 euro di luce mio padre ha le convulsioni padre grazie per l'abbonamento johnny comunque due a terra sopra 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 gli altri due erano sotto l'altro era sotto madonna che polli questi però che bello che bello savi che bella sta doppia puoi entrare in banca con un passamontagna discosto completamente si ma occhio che c'era il team di là eh lo sapevo lo sapevo io che ti beccavi quelli lì da solo da solo gli altri sono a 400 metri verso il bunker eh vedi vedi lo sapevo sono una chiara veggente sono non chiaro 12.000 euro di corrente che cazzo c'hai per spendere 12.000 euro di corrente vince porco demonio chi se è tutto fatto vediamo 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 contro chi è è ben gkvis bello madonna gula che a te giochi 46 vite siuum ho 9 cantieri ma ha preso le mie armi 25 sabba subito il sole a casa vince non ha una casa ma una città intera certo jimbo però fra l'elicottero è troppo rischi è troppo rischi è troppo rischi forse stanno sparando sopra la montagna mi fa impazzire Marco quando inizia a parlare io lo vorrei niente sabi sembra blu quando lo apri è blu moorride eh sabi con più spettatori di moorride attenzione però vedete la differenza qual è che poi quando sabi gioca normalmente moorride ha il doppio degli spettatori perché è intrattenimento rega di quello che conta no ma guardatelo non spara così a brullo no cecchino cecchino un puntino un puntino rega rega mi dovete far spara a me però aspettate un secondo vi prego mi dovete far spara a me perché se sparate voi è inutile è inutile qua c'ha ragione ho capito però poi dopo occhio perché sennò comunque è buono buono così sì 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 dico occhio mi mette uno cecchino un help dietro però perché se arriva da dietro ci massacrano guarda tu la parte destra ok è parama enorme qua da solo non lo so ma se un solo guarda a sinistra c'erano da sinistra ma se prendiamo le di sì 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 andate andate io faccio un giro largo e vado sempre col cane stacco per la partita rega sì Jimbo sto d'accordo con lei per te chi è più forte chi per me io l'ho sempre detto raga il più forte in Italia se dovesse rimettersi a giocare seriamente tutto è power a mani basse attualmente il più forte in Italia è Jesus Jesus Vortex Savi secondo me non è fra i più forti è fuori fuori è entrato da qua dove sto io ah è qua 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 scusami è qua 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 è dentro dentro al garone c'è Kyborg? dov'è Kyborg? lui che sei restato il mio non lo so sono sulla torre Johnny è silenziato si sta mettendo faccine triste a tutti perché è silenziato infatti dicevo ma chi è il pezzo di merda che continua a mettere le reaction tristi ai Johnny fatemi dai per per farsi fargli vedere che ci ricordiamo di lui e ci teniamo guardia la porta sopra mi fanno 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 ok attenta l'armi quello armi quello per per fatemi uno spam di Free Johnny in suo ricordo è stata è stata è stata la sua mogliera inserimenti no c'ho i guppi di là ho i guppi nell'acquario di là e i gli scalari nel in questo solito Free Johnny no sono stata io con che cattiveria hashtag Free Johnny hashtag Free Johnny è stato quando è partito lo spam compulsivo e gli è piaciuto scherzare col fuoco e purtroppo la la valle è il diavolo free willy si si metti più piante no qua dietro è pieno di piante c'è tutto l'angolo pieno di piante poi devono c'è una che si sta aprendo tutta ma mi sa che ne taglio un pezzo la metto nell'acquario di là pure gli autoressa pure gli autoress dico eh lo so però l'avanzato vai 10 marco perché sto si a 12 18 lasciatola mello Free Ryan salvate il soldato salvate il soldato Johnny bello l'ingresso Gulaga ci piace ci piace arrenaio piace arrenaio piace dal sabotaggio un cecchino cecchino dal sabotaggio vedi stanno fai tanto stanno fai tanto sì sì sabotaggio fai tacon sinistra tusso libero ah no questo è per pochi eh Jimbo neon grazie per la condivisione anche neon senza la sub ma che cazzo sta succedendo a questo mondo regà ok 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 bella neon facciamo che lavori sei multimilionario manco le sub bello bello non so quanto sia cos'è il primo piano lo vedi questo qua sopra lo vedi questo qua sopra mi sa che fai mi sa che fai mi sa che fai mi sa che fai che fai raga sto mirando sotto di te Marco non lo vedo dove è più mi sa due ma mi sa due ok Marco ne è uno sotto e critica la situazione è sotto sotto è troppo bene secondo me spacca il veicolo che vi faccio muovir spacca il veicolo ok tira in a cazzo di granata Marco chi è che spara non lo so ma come affitto stai vivendo da solo savi ho una granata gliela tiro stai vivendo da solo metti le Anubias che fanno che fanno fiori bellissimi in acqua Anubias ma dove le trovo però mi fa la foto mi lascia mi lascia mi lascia mi lascia sempre Ronny vuoi prendere il track c'è la mio padre mi sa queste vuoi farlo? possiamo fare anche guardate Marco guardate 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 mi raccomando controllate tutti lo scudo verde accanto alle stelle perché sono stati regalati un sacco di abbonamenti con questi mi sono rimasti 15 euro nel conto bravo Neon un pacchetto di sigarette e due canne ma stai vivendo da solo Neon no scusami che cazzo dici i bolletti paghi le bollette i tuoi che cazzo fai anche Pex fai la sabba ti licenzo da grau mandamelo comunque Pex quando ne prende la Juve stasera non lo so allora basta la situazione qua è critica non sanno che cazzo fare i ragazzi sono incastrati in una casa senza via d'uscita ma veloce per la decidenza hanno buttato un bombarda ok 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 lo vado faccio forza vuoi provare a farlo si però vi lascio i soldi nel caso o no va bene no Marco porco due la patente ma Johnny è ancora silenziato raga ma quanto stanno durando i 15 minuti di Johnny ciao Marzia ciao Fabio buonasera 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 ok ok vai 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 venite vi copro vi copro io puoi essere che qualcuno rientra dalla setta faccio io uno tiro ne faccio due ne faccio due ok tieni 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 ottio giusti giusti wow 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 what a bad situation si 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 c'è il bombi ok 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 però fra stiamo sotto così stiamo sotto fra no 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 bravo bello bello così bello così che cazzo di turnata Luca grazie per le due cento ma non sono più silenziati è vero Johnny sei un coglione dai con se stelle adesso me lo sta mandando me ne sta mandando uno pex ma cosi un coglione sei ti sparano tre in track ve lo distruggono me lo distruggono fra però dobbiamo andare sopra la montagna Nico ma qua siamo c'è Gio ci sparava la marca della montagna danni critici ok se mi vi ok va bene va bene fa letto qui invece eh mo come arrivo da voi fra non ci riesce a arrivare chi ti spara chi ti spara mi spara casa camion qua eh io volevo prendermi il top per quello che è una montagna non è safe dopo mi sparano dalla tre persone come me dopo dobbiamo fare con quelli che su camion per forza e prenderla non lo so tu Marco non riesci a fare che non stare aspetta tu non lo fai mai direi Marco è un minuto o poi c'è il culo almeno e c'è anche il deploy fatto 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 guardami anche tu link jumpy su Instagram se riesci grazie qua lì non c'è chi Marco tieni tu non me la vuolta almeno eh mo mo che cazzo fanno no qua qua dovremmo farla però dovremmo dovremmo eh qua la facciamo secondo me perché sicuro mi crea te cannon sopra adesso tu hai zero stun prendi sta fumogena se hai zero stun infatti non so se c'è nulla Marco perché dici che ce l'ho ma non c'è il numero capito ah ok schiacciare il coso e poi ti eh ma non so se posso annullarla posso annullare può annullare la stun Marco si si può annullarla può annullarla non ce l'ho comunque è stato un tappo forte quando non ce l'ho dai abbiamo 14 kill cioè se facciamo top 15 14 kill è buonissimo si 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 possiamo anche vincere aspetta aspetta non ce l'ho là aspetta magari non cambiano attento attento da sotto arrivano eh addosso da sinistra arriva necuno davanti 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 non sciopissimo fatto posso restare non ho la maschera basso giuro vai uomo dai con ste stelle ah mi holdava non ho preso la kill almeno eh non so se vuole vengabile però non voglio rispondere Luca al 300 si mandamelo sinista le war series Johnny 200.000 in palio 5 partite un punto a kill entro il quindicesimo posto uno e mezzo moltiplicatore primo posto due moltiplicatore per due e hanno un bel po' di kill sta partita qua devono restare vivi considerate che il team che ha vinto prima aveva le loro stesse kill adesso se loro arrivano in endgame e la vincono vuol dire che riescono a fare un game da anche anche 30 kill 20 25 kill di team ma almeno ne avevano 14 15 adesso regola no in teoria è 200 e 100 il primo il solo è su da solo non si fermerà mai ce li hanno sopra però guardate qua tac tac gente sotto il ponte 17 dopo 17 dai devono prenderla 15 perché puntano sono qua dentro adesso perché puntano arrivare a top 15 vedi che loro sono al centro safe è kyborg voglio quelle placche regà prendi 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 lui cecchino tanto è lui cecchino attenti sopra la montagna dietro sulla montagna sono safe quindi non scenderanno perché può esserci solo un cecchino in team questo è il team di Andy tra l'altro fatemi fare una cosa veloce sono qua fuori proprio non ci credo cioè savi e gli altri sono qua dentro regà mi sento male non vale rischio non vale rischio non vale rischio due persone qua stanno lottando io una ma do ce l'hanno qua fuori regà è qua eh è lì dietro Andy un professionista dello sport incinto però un professionista dello sport vicine certo che la guardo secondo te la vado in live con Champions non lo riesco non riesco solo senti la musichetta no guardo questa vado su a mangiare per forza come non c'è niente cazzo ordina la pizza buona ordina ok 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 perché appena ho fatto sport vabbè vabbè non è che se è andato in bicicletta mi mangia melone e prosciutto arrivederla oh top 6 dai che la portano a casa raga come chiude come chiude godo godo dobbiamo venire tutti da loro ok ok io tirerei un bombardamento in breath fire andy sono ancora vivi non sono in tre non ho visto la chi c'è il buon verano c'è solo un full team mi sa c'è solo un full team madonna la mia stimolante dopo 2 2 team gli sto piccando cosa è l'unico io non picco 17 kg no marco guardami mi sale marco si posso non salire sopra sta roccia di merda o no no se fanno il giro a sinistra si no no non posso non posso non posso madonna raga tensione palpabile alziamo il volume godiamocela tutta si oh no e un team da due e forse sono andy e zanzi zanzibar come cazzo si chiama sopra sopra a destra tua ok guarda si chiuse la porta eh sì sì guardate raga niente vaffanculo nani ti dovi uno resisti a sinistra a sinistra spassano allora sulla montagna 2 contro 1 contro 1 1 1 nani forse spara usa il bombarda tiratelo addosso tira il bombarda alla casa parco 2 tira il sto cazzo di bombarda 20 kill e 40 punti buona cazzo franico tu sei un blessato di merda da ora in poi dimmi dovete mandare da ora in poi 40 punti sono tanti raga sono tanti dai buona buona voglio un'altra cazzo di will vinciamone un'altra porca puttana vinciamone un'altra baby stamosa cazzo di vinciamone un'altra ma so cazzo 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 smagano cazzo 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 buono 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 mi avete svutato il cozzo torna più offeso che mai si 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 ci godo manca poi di andermi a costare l'ho fatto anche bene buoni kill l'abbiamo fatto anche un buon kill il bombardiere allo start fra quella da quanto godo veramente questi la due sopra ci sono non si sono mossi smette subito che prima non ho mai fatto in pubblica non ho mai fatto la doppia di bomba e ancora abu scrivimi in privato mario dio eterna divina santa lo vincevamo un game del millennio e lo vincevamo in qualsiria sotto cazzo godo ma veramente 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 perché perché lo stiamo giocando con un po più di testa ma che vuoi partecipare johnny ci pigliamo due schiaffi e basta a cisterne va fornerino no mi dissocio mi dissocio mi dissocio mi dissocio mi dissocio quando fa l'abbonamento paga raffaele con i quattro mesi quando fa l'abbonamento paga me non c'è nessuno che ci carta allora ragazzi siccome qua ci impiegheranno troppo vediamo se fanno vedere di sicuro non riuscirò a guardare anche la prossima ragazzi perché dovrebbero essere primi a regola va bene abu dovrebbero essere primi a regola perché se consideriamo che il team di prima loro erano sesti a regola con una decina di punti indietro quindicina di punti adesso me ne fate 40 dovrebbero essere primo posto regola e devo andare raga perché fra meno di un'ora un'ora mi inizia la champions devo mangiare e non ce la faccio non vedrei tutto il game erosico non posso spegnervi la live mentre a metà game ma magari perché ora che o mi dissocio ora che che parte qua ragazzi a voglia amo se ve ne dovete andare a fanculo un po però è no no me lo guardo il nico me lo guardo il nico milan non bisogna iniziare a startarla però non lo so io sto vedendo solo te lo dico ti devo dare la direzione siamo a 55 punti ora no? 15, 40 si se lo dai piro code loro vabbè però ripeto lasciamo stare gli altri secondo me dobbiamo pensare a noi a fare le nostre le nostre belle partite che è il munone si è trovato piro code nel gula che spero nel munone spero nel munone no l'ho già vinto l'ho già visto prima ha vinto ha vinto ah ci guardo ci guardo caccia porco due guardate col mouse comunque che fatica che si fa a seguire la gente ah shucks è quelli ho visto che uno è già full morto tipo ah jay ha fatto il contratto a pick ah si ho visto ora è bella play a quarta 6 però eh ah la quarta eh si ma infatti io l'ho sentito quando adesso abbiamo sentito tre mare eh si l'ha visto l'ho visto però vabbè era una cucina non ve l'ho fatta la cosa che cazzo se ne frega allora erano due kill g e quattro axis allora non ho fatto bene l'ultimo game va bene johnny accetto io no però no tre tre ne vedo tre ne vedo tre ora si sennò dico sto guardando qua cioè non so ah ok 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 cinque a lui cinque axis ma quante che cosa ho fatto nelle cazzo scusate venti 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 pensavo di più cazzo no no vabbè venti sono abbondanti comunque che cazzo di grafica oh frate mio grazie per la condivisione amore che cazzo di grafica che cazzo di grafica The highlights now from drop number 2, plenty of kills either way, some big gulag battles going down and this is a tough one guys, this is a very, very intense competition again with what we promised at the start of the day, the finest European players qualified and invited here to the comm Ellen and it's been a treat so far. Oh yes indeed, and you know shoutout to Grandmaster Goj for that call, before that drop number 2 kind of pointed out that Vortex, the Blade and Savvy Ultra would be like the Dark Horse team and then they were the ones that actually win that setting with a 40 point game, this is like super high again I'm just really curious to see those play styles, but it makes me kind of surprise of course, we had to mention that before, like hey, you know what, he always makes a comeback in these runs. Jago said it during the break, he was like, yeah, the Dark 6, the after this, don't worry, they guarantee at least one good, and Jago, anything from you from the highlights that sort of sticking out for you? No, I don't think much, I think it looks like everyone's, you know, at the end game it seems like the teams that were able to stay alive, all three of them, is having the most success, because what we're seeing is a 3v1, a 3v2 or 3v whatever, the numbers, whoever had the most numbers in the end, so that every team's dwindled down, they're not able to regain, even with all the mechanics to make regain easier, a lot of teams just don't have their full squads towards the end. Numbers really playing the advantage here on Caldera, and again we've seen play calls been made, balloons coming out, really trying to make the desperation after there, and Jesus Jr. and co, not able to press the advantage that they had big win, big cleanups here from the end, and WarTex's crew managing to get the dub, and a big win indeed, and we're going to look at the scores in just a moment, an unofficial look at exactly where all our teams stand, these will be updated throughout the day, there's a lot of numbers to crunch, friends, and our magical elves here at the World Series Awards, I think it's really cool too, the use of the perks, because we see that Caldera dovrebbe essere arrivato quinto quarto adesso, sono primi raga, da più sette, da Jesus. primi, buono. forse 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 riusciamo a vederne ancora una una riusciamo a vederla ancora dai forse dipende fra quanto parte raga so, anyone you're expecting to make the leap? well, I still haven't seen, we're missing Wars and we're missing Jukies, which are kind of like, I think we're heavy favorite coming into this, they were invited because obviously their background in success, so I would imagine that they're going to make a climb, like I said, it's just one of those good games, you get 25 points in the team, you're going to shoot up pretty heavy considering the top 10, you get 50 points already in the top 10. and that's our top 20, again there, only top 20 get paid out, so you want to be climbing into that one, the bubble will be soon bursting, but 33-ish points seems to be the mark for now, on the other side of that one you'll see that many folks can make the climb, we're almost ready to get into drop number 3, the hump drop, if you will, here in the World Series Awards, the European Finals guys, been intrigued so far, Ellen, any sort of stand up moments for you in the competition at this point? Uh, no, I mean, I think a lot of it is pretty much what we expected to see, um, again, just utilizing the snapshots and just the team, the chemistry, uh, crazy comms, a lot of craziness that we expected, and I think, uh, I think we're just getting started. Oh, I think we're going to. Jaygon again, it's sort of like drop number 3, now you're starting to feel like what you want to be doing as a squad, what are the squad to do successfully? This is where, like, adaptation is going to start flying through, this is like a big strategy change, right? Cioè si sta perdendo grazie a Dio non l'ho giocata Bella Zuffi Ci stanno impiegando troppo io sto crepando di fame 99 niente raga dai Ve le faccio guardare a voi Io stacco Forse 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 ci sono dopo il Milan Ma sarò su PUBG al 100% Ok vi faccio sapere su Instagram comunque Ci sentiamo ragazzi Mi raccomando andate a tifare Gli italiani L'hai giocata al Chelsea? Io no grazie a Dio Ciao raga Ciao a tutti Grazie mille come sempre